Ora l'inchiesta sui fondi della Lega, Manzoni e Di Rubba, uomini di partito, così il giudice definisce i due commercialisti nell'ordinanza che ha confermato gli arresti domiciliari. Giulia Serenelli. L'operazione Capannone, una messa in scena, i passaggi per la compravendita della nuova sede della Lombardia Film Commission, un accordo collusivo tra gli indagati, i due commercialisti, uomini del partito. Lo raccontano le motivazioni del riesame che ha confermato nei giorni scorsi gli arresti domiciliari per Alberto Di Rubba e Andrea Manzoni. I due commercialisti vicini alla Lega sono descritti come professionisti che utilizzano le loro competenze per mascherare con contratti, fatture e pareri passaggi di denaro unicamente finalizzati al loro arricchimento. Inoltre Di Rubba, che della Lombardia Film Commission, ente che gestisce soldi pubblici, era stato presidente, può certamente essere definito un uomo di partito, specificano i giudici. Passaggi dell'inchiesta della procura che parte dall'acquisto dell'immobile alla periferia di Milano per 800 mila euro, comprato con fondi pubblici erogati dalla regione, il doppio del suo valore, secondo i magistrati che annotano come le due parti contrattuali, la fondazione e la società Andromeda siano di fatto riconducibili ad un centro di interesse unitario.